Il progetto vuole fare da supporto alle persone svantaggiate come gli anziani over 65 e i disabili. Da ieri nei paesini della comunità montana Gran Sasso è partito il taxi farmaco, ovvero quattro volontari consegneranno a domicilio farmaci e genere alimentari. È una risposta a quelle che sono le esigenze più immediate di una popolazione in maniera preponderante anziana di quella comunità, di quell'entroterra della nostra provincia, per quelle che sono le risposte a richiesta di spedire una ricetta oppure approvvigionare quelle che sono le quotidianità. Pertanto abbiamo presentato questo progetto alla Regione Abruzzo per la validazione e quindi c'è stato risposto in maniera positiva e quindi partiamo con questo progetto molto importante e innovativo. Per usufruire del servizio è possibile chiamare il numero verde 870 1288, risponderanno al telefono dei volontari che registreranno la richiesta, acquisteranno i farmaci con ricette mediche e poi passeranno alla consegna del prodotto richiesto. I medici devono prescrivere i medicinali, metterli in borsa chiusa, darli agli operatori che vanno in farmacia, il farmacista per la privacy questo, il farmacista mette in borsa chiusa, si incilla e li dà al paziente.